Sì, perché ci teneva abbastanza a dirvi la mia opinione su un argomento importante come questo In caso vi steste chiedendo che ci fa quest'idiota in felpa a luglio in casa Darei una semplicissima risposta Non avevo voglia di cercare una maglia Ma non divaghiamo, innanzitutto mi scuso se la qualità di questo video non verrà tra le più eccelse nel mondo ma... Avevo la videocamera rotta, il treppiede del telefono disperso E la webcam è l'unica cosa che mi rimaneva, perdono E non torniamo allo scopo del video In questo video, scusate la ripetizione Voglio parlare di appunto se YouTube sia solo un lavoro o anche una passione Prima di arrivare a ciò però bisogna premettere alcune cose Innanzitutto molta gente vuole entrare in YouTube E qualcuno lo fa con i gameplay E qualcun altro con gli abusatissimi e noiosissimi gameplay di Minecraft Per poi sfociare in qualcos'altro Diventare qualcun altro e quel che si voglia dire Fare quel che si vuole sul proprio canale Però c'è una cosa che accomuna tutti gli YouTubers I soldi Sì, sarebbe stato bello farlo così Tipo un money grabber lanciandoli in aria Però io non li guadagno Non è per un'etica così spaventoso perché io sia meglio degli altri Ma semplicemente perché con i soldi della partner Non ci guadagnerei neanche una caramella Però prima di tutto analizziamo la differenza che c'è tra YouTube E il lavoro che più sembra avvicinarci Ovvero la televisione Sì perché sebbene ci sia qualche differenza Come il fatto che entrando su YouTube Non ci si lega a qualche mettente particolare Anche se poi lo si fa con un network E anche che i tuoi video che si decide di caricare Sono completamente fatti Tranne alcuni casi sporadici Dallo YouTuber che andrà poi a renderli pubblici al mondo Però se queste piccole differenze sembrano voi grandi Analizziamo le similitudini Per esempio vediamo se riuscite a riconoscere questi YouTubers Sì ok andiamo avanti Un'altra cosa che chiamina YouTube al mondo dello spettacolo È il tempo che ci vuole per portare avanti questo show Perché dietro è un video di 10 minuti Non ci stanno solo 10 minuti Sta il tempo per registrare Che può essere anche da un'ora, due, tre, cinque C'è il tempo per montare Che anche qua ci si aggira intorno alle varie gate ore Per quelli più bravi E poi c'è il tempo per caricare Che per chi ha una connessione come la mia Equivale a 5 notti di fila Per 10 mega Quindi di conseguenza Se si guadagna con la televisione È anche giusto guadagnare in cifre molto minori con YouTube Facciamo un esempio L'attrezzatura Sì perché per essere su YouTube ci vuole un'attrezzatura Questa è la mia Sentite non tutti gli YouTubers possono vantare un solo E volevo dire un mondo di sponsor e cose varie dalla propria parte al primo video Credete ancora che non siano giusti i soldi? Facciamo un esempio Yotobi Se voi andate a vedere un video di Yotobi Tra i primi Noterete che non c'è una qualità immensa Molto inferiore rispetto a quella di adesso Però piano piano Con l'esperienza Con i soldi È riuscito ad aumentare sia la sua abilità Che la sua appunto attrezzatura Permettendogli di fare i video che fa oggi Che secondo me sono i tra i migliori che YouTube Italia può offrire Ma sono opinioni personali Ci sono anche altri casi In cui lo YouTuber È già bravo all'inizio Prendiamo per esempio il caso di quei due sul server Però c'è una piccola nota da ricordare Loro sono videomaker professionisti E quindi fanno un lavoro molto simile A quello che si compie per dare qualità ai video di YouTube Quindi di conseguenza Fare lo YouTuber ti porta alla fine a fare un lavoro O meglio Diversi lavori Perché tutti Superato una certa soglia di utenza Diventeranno dei videomaker Più o meno esperti Certamente non ai livelli di quelli che fa le pubblicità per code Ma comunque di un certo livello Diventeranno o discreti gamers Bravi gamers Quel che vuoi O recensori quasi professionisti O qualsivoglia cosa tu voglia portare su YouTube Quindi diventa un lavoro Sì il lavoro che si vuole fare Un lavoro che si decide di fare Però è pur sempre un lavoro Che bisogna affrontare con passione Con tutto quel che vuoi nel mondo Però rimane pur sempre un lavoro Questo video Girato e montato da professionisti Sarebbe venuto sicuramente meglio Ma a quel punto Dove sarebbe stata la passione In questo video Che schifo Andavo a trasturare le cuffie Perché sennò viene una merda YouTube sia soltanto un lavoro Oppure comporti anche una passione Ma porco il cazzo Perché ti spegni Non lo so Non lo so